L'acqua è una delle risorse più importanti del pianeta e sensibilizzare e informare la popolazione per un suo corretto uso evitando inutili sprechi e di fondamentale importanza. È per questo che anche la ricerca scende in campo e in questo caso in particolare il gruppo di ricerca coordinato dal professor Andrea Catorci della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria che sta collaborando ad un progetto di educazione ambientale. Il progetto Accademia H2O, cioè Accademia Acqua, è finanziato dalla Cari Verona in cui l'Università di Camerino è uno dei partner, il partner scientifico, ed ha come finalità quello di raccontare e di istruire la popolazione, la cittadinanza, sulle buone pratiche e sul tema dell'uso dell'acqua come risorsa esauribile. Il ruolo di Unicam in questo progetto è quello di formare i formatori. Per fare questo noi abbiamo realizzato un corso di formazione a cui hanno assistito 15 tecnici che fanno educazione ambientale nelle scuole e quindi abbiamo formato questi tecnici sui temi dell'acqua, dei cambiamenti climatici e delle buone pratiche con cui far fronte a questi cambiamenti climatici. L'altra attività che abbiamo svolto è proprio quella di individuare, definire e raccontare in brevi filmati di 15 minuti circa le buone pratiche che i partner del progetto hanno messo in pratica per migliorare l'utilizzo dell'acqua o per ridurne il suo spreco. Oppure, come nel caso della San Cassiano, quello di ridurre l'utilizzo di materiale non riciclabile nel caso dell'imbottigliamento delle acque minerali. Il materiale registrato delle lezioni che abbiamo svolto nei corsi e delle buone pratiche. Verrà poi messo a disposizione di tutte le scuole marchigiane in un pacchetto che servirà proprio da strumento didattico per il racconto dell'acqua, dei cambiamenti climatici e delle problematiche che questi porteranno proprio alla risorsa edica nel nostro territorio.